Grazie a tutti. Uno, due. Ma che carino. Ma sei tu che li hai persi allora? Oh, la madonna. Ma questi qua ne stanno perdendo di qua. Ma questo che è bello. Oh, Dio. Ma bello. Ma quanto stai perdendo? No, no, no. No, no, no. No, ti dico la verità, siccome l'altro giorno... No, ma l'altro giorno ho perso un'orecchina. No, ma non sono niente. Oh, sì. Io non ce l'ho la borsa qua. Ma... Ma dove spostano? Sì, sì. Ok, mi vedo però. No, 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 no. Apre un uomo! Il medico! Cazzo! Cazzo! Mi sei cazzito! Bellissimo! Cazzo! Oddio! Una moneta! Un'altra! Oddio, è una signora! Oh! Oddio! Lo sapevo che sei così bene! Ciao! Ma Degas! Cazzo! 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 ho sentito cadere qualcosa non so da dove cadono Andrea mi stanno prendendo qualcosa diciamo che si chiace parte si grande grazie a lì grazie a lì felice a un pepe nelle scuole felice è un mozzo felice è stato bravo lascia 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 andrea signora Signora! Ah ma la signora! Ma che spavento! Raffa sarà stato il sesterposta. No, disse ommissioni. This way! Comunque le tasche! Cosa? 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 Non ho mai sogliere! Oh Dio! A que paura! ahahahahahahahahahah eh No, no, no. Eeeh... AVO! E' però anche i miei figli della casa E' barro che l'ho visto pure se mi sapeva un altro giorno E' più beccato Ciao AVO! 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 Grazie a tutti